A una delle più giovani e recenti vittime del lavoro, la 23enne Luana Dorazio, è stata intitolata la statua dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro e il Comune di Fucecchio. La decisione di intitolarla la giovane ragazza pistoiese morta schiacciata dal macchinario dove lavorava in un'azienda tessile di Montemurlo lo scorso 3 maggio, è maturata grazie al concorso, un nome e un fumetto per la sicurezza che l'ANMI l'ha lanciato nelle scuole fucecchiesi di ogni ordine e grado, raccogliendo 40 lavori e proposte da parte degli studenti. Quattro di queste sono state scelte dalla commissione esaminatrice, tre sono vincitori delle rispettive categorie, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado. Un quarto invece è il vincitore del premio generale, la statua si chiamerà Luana Vita e Lavoro, alla premiazione delle classi e degli studenti vincitori e alla cerimonia di intitolazione della statua è intervenuta anche Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio.